Per la Corte d'Appello di Salerno, Afiab del Rahman deve essere estradato in Marocco il 29enne. Era stato arrestato lo scorso 9 luglio a Battipaglia con l'accusa di terrorismo. Il collegio presieduto dal giudice Vincenzo Di Florio ha accolto la richiesta avanzata dalle autorità marocchine, autorizzando l'estradizione del 29enne per la Corte d'Appello. Infatti dai documenti emergerebbero gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane, accusato da due persone di far parte di un'organizzazione terroristica nella quale avrebbe avuto un ruolo di primo piano. In particolare il 29enne avrebbe accompagnato personalmente in Siria i due saudali, facendosi consegnare anche 3.000 euro a titolo di finanziamento dell'organizzazione denominata fronte di supporto. Ad Aleppo i due sarebbero stati addestrati all'uso delle armi da fuoco per combattere sotto le insegne dello Stato islamico. Uno dei due saudali, inoltre, secondo le dichiarazioni rese, avrebbe anche partecipato ad un'operazione terroristica di natura suicidaria, accuse respinte dal legale del 29enne, che non appena la sentenza sarà tradotta e notificata alle autorità marocchine, ricorrerà in cassazione contro l'estradizione. Abbiamo un progetto penale in corso in Italia per cui già questo potrebbe essere sufficiente ad evitare, o meglio, a sospendere quella che è la consegna della figlia alle autorità marocchine. Poi ha fatto richiesta di asilo politico. Le motivazioni sulla richiesta di asilo politico sono proprio quelle legate alla dichiarazione che la figlia ha reso all'epoca contro quello che è il governo marocchino, per cui ci sono dei validi motivi per far sì che lo stesso rimanga sul territorio etaniano.